Il rapporto tra la pubblica amministrazione e il cittadino che cambia e che deve cambiare. E sono orgoglioso del fatto che Catania sia la prima grande città in Italia a fare un salto di qualità anche con il passaporto. Noi l'abbiamo già fatto con la carta d'identità, l'abbiamo fatto in collaborazione con la procura per quanto riguarda il casellare giudiziario. Oggi, grazie alla questura, lo facciamo con il passaporto che si può ottenere andando una sola volta e avendo già tutti i documenti pronti a vista. Il Comune di Catania è felice di questo e annuncia ai cittadini che fra qualche settimana, subito dopo l'estate, partiremo di nuovo con il pronto anagrafe. Tutti i documenti del Comune si potranno avere senza bisogno di spostarsi, telefonando, pagando una piccolissima somma e avendo il documento, il certificato di residenza o qualunque altra cosa, direttamente a casa. Per chi non si vuole spostare è un bel servizio come avevamo fatto negli anni passati.